Benvenuti nel mondo degli orologi Emporio Armani. Gli orologi Armani rappresentano una delle icone di stile più famose al mondo. Il marchio italiano ha una lunga storia di successo nell'industria della moda e degli accessori di lusso, conosciuto per il suo design elegante e la qualità artigianale ineguagliabile. I prodotti Armani sono il frutto della visione creativa del celebre stilista italiano Giorgio Armani, che ha fondato il marchio negli anni 70. Nel corso degli anni, l'azienda ha ampliato la propria gamma di prodotti e l'orologeria è diventata una delle sue attività di punta. Gli orologi Armani si distinguono per il loro design sofisticato ed elegante, con una grande attenzione ai dettagli. Le collezioni variano da modelli classici a modelli sportivi, e sono realizzate con materiali pregiati come acciaio inossidabile, oro rosa, pelle e vetro zaffiro. Ogni orologio Armani è realizzato con la massima cura, grazie all'esperienza artigianale dei suoi orologiai esperti. Il marchio utilizza solo i migliori movimenti al mondo per garantire la massima precisione e affidabilità. Gli orologi Armani sono stati indossati da celebrità e personaggi influenti in tutto il mondo, contribuendo alla loro crescente popolarità e status simbol di successo e prestigio. Inoltre, gli orologi Armani non sono solo un simbolo di stile e status, ma anche un'opera d'arte da apprezzare per la loro bellezza estetica. Ogni modello racchiude in sé un'essenza di bellezza e raffinatezza che solo un marchio italiano di classe mondiale come Armani può offrire. Con la sua lunga storia di successo e l'eccellenza artigianale, gli orologi Armani sono un investimento che dura nel tempo. Che tu scelga un orologio classico o sportivo, ogni modello Armani rappresenta un'opera d'arte da ammirare e indossare con orgoglio. Se stai cercando un orologio di lusso che ti offra un design raffinato, elegante e la massima qualità artigianale, non puoi sbagliare con un orologio Armani. Indossare un orologio Armani significa indossare un simbolo di stile, prestigio e successo che solo pochi marchi al mondo possono offrire. Grazie. 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 Grazie.